Buonasera, riprendiamo il discorso incominciato la scorsa settimana con Vincenzo Di Giovanni per concentrarci sui suoi anni a Varese. Per rilanciarsi Vincenzo Di Giovanni è arrivato a Varese ed è tornato a vincere proprio in bianco-rosso. Nel Varese di Fascetti che atmosfera si respirava Vincenzo? Ma tipo oratorio, un tipo di ragazze, io ho 23 anni e mi sentivo un vecchio là dentro, tutti i giorni. Tutti i giovani e sbarazzini. Esatto, non c'era pressione, non c'era niente, si giocava tranquilli, c'era un ambiente bellissimo. La famosa villa dove abitavamo. Dove abitavate? Magari non tutti se lo ricordano. Vicino alla sede, adesso non mi ricordo le vie. In via Cairoli a Varese c'era la sede, lì vicino c'era la vostra villa, molto bella e c'era poca pressione da parte del pubblico che pure era innamorato del Varese. Sì, ma lo sai che non è che poi ci siano tanti tifosi, all'inizio magari non ce n'erano tanti, poi pian piano sono giunti. Li avete fatti innamorare. C'era qualcuno un po' diffidente perché ti chiamavano l'africano per la tua pelle abbronzata da siciliano vero, è verace. Sono felice di essere così. C'è anche un aneddoto. Da buon terrone. Esatto, a proposito del terrone, mi avevi raccontato un bel aneddoto qualche anno fa per un'intervista che ti avevo fatto sulla carta stampata in cui mi dicevi che c'era sulle gradinate del Franco Ossola un tifoso un po' fastidioso che tutte le volte ti gridava terrone, terrone. La prima volta che poi hai fatto gol, cosa hai fatto? Sei andato a indicarlo? Gli hai fatto così? Gli hai fatto le corna? Vabbè, quello è niente. Non è quello, Filippo. Quando è successo questo, che sto tizio qua me ne diceva di tutti i colori, ma più che altro perché è da razzista, non da sportivo, una volta che ero squalificato sono andato nelle gradinate dove si metteva sto tizio e l'ho beccato. E così siamo diventati amici poi. Questo dimostra che Vincenzo è un uomo vero, che ama guardare le persone in faccia. Il segreto del Varese di Fascetti che vantava un preparatore atletico all'avanguardia come Enrico Arcelli e anche un collaboratore come Roberto Sassi a cui eri legato. Ma diciamo che Sassi era un po' più severo nel modo di fare. Arcelli era favoloso, bravissima persona, educata, preparata, niente da dire. Un grande vicino poi a quell'altro Rompi che lo chiamavo Rompi e poi ti dico come lo chiamavo io e Eugenio Fascetti. Lui era il cinghiale nero lo chiamavo. Quando facevamo le salite al golf gliene dicevo di tutti i colori, sempre piano. Il famoso Calvario. Beh, sì. Di Luvinarte. Ti giuro guarda che era molto dura stare dietro a quei due. E difatti una volta mi avevi detto che poi andando alla Triestina, dicevi alla Triestina poi correvate poco rispetto a quanto correvate a Varese. No, eravamo in ferie là. Addirittura. Sì, sì. Beh, torniamo al Varese. Allora, mezz'ora circa della ripresa. C'è una punizione per il Varese dal limite dell'area. Batte Cerantola per Braghin che dalla sinistra crossa al centro dove Di Giovanni di testa anticipa Walter Zenga e mette in gol 1-0 per il Varese contro l'Inter. Era il 5 aprile del 1983, gara di ritorno a Masnago della Coppa Italia. Passò all'Inter che era andata, aveva vinto 2-0. Ma è un gol che ci rimane nel cuore questo con l'Inter. È una bella vittoria. Varese 1-0, 1983. Beh, anche per i tifosi è bello. Poi personalmente, anch'io da buon interista, ero felice però. E potevamo passare quella sera là. Che se ti ricordi, tu ragazzino, ho sfiorato anche il palo io. Esatto, esatto. E mi ricordo anche un altro gol a Zenga. Prima che Zenga tornasse all'Inter era stato prestato alla San Benedettese e tu segnasti un bellissimo gol alla San Benedettese. e Varese 1-1 San Benedettese 0 nella famosa annata 81-82, l'anno della promozione inaspirata. Insomma, quindi Zenga, avevi il vizio del gol con Zenga. No, poi in amichevole, Triestina-Inter, gli ho fatto due gol. Sì. Altri due. Grande. Vincenzo, lo vedete, è molto alla mano, non ha la puzza sotto il naso e dava i passaggi con la sua Renault Fuego all'epoca. Era una Renault Fuego nera, eh, ti ricordi? Il giocatore è la primavera del Varese. Anche a Stefano Bettinelli, che poi è stato allenatore del Varese. Insomma, erano alla fermata dell'autobus, tu passavi e li caricavi. Com'era? Eri l'idolo un po' del gruppo, dei giovani? Ma ti dico, io ero... Ma tuttora, alle volte chi mi conosce, mi dice sempre, tu sei sempre uguale, non cambi mai. Adesso, per esempio, c'è un negozietto al mercato del capo, dove bene o male conosco tutti. Ma io sono alla mano con tutti. Purtroppo non riesco a darmi delle aree, tutte queste robe qua. Ci sono abituato. L'umiltà è la dote dei campioni. Tu hai... No, scusa, Filippo. Ho visto tanti campioni che si comportano da stronzi pure, eh. No, infatti, forse mi sono espresso male, volevo dire che i veri campioni dovrebbero essere umili. In realtà, in effetti, ci sono tanti campioni che si comportano da stronzi. Eh, ma tanti, però, eh. E qualcuno ne ho beccato anch'io. Senti, in Serie A, hai giocato le tre partite con il Genoa, poi l'hai solo accarezzata nell'82, perché il Varese perse quel campionato dominandolo, no? Il campionato 81-82, il Varese l'avevate dominato, l'avete perso il 6 giugno dell'82 all'Olimpico, quando la Lazio passò dallo 0-2, aveva segnato per il Varese Turchetta e Buongiorni, insomma, aveva recuperato la Lazio con il 3-2 finale, la tripletta di D'Amico, a segno con due rigori e una punizione dal limite. Cos'era successo quel giorno? L'hai detto mille volte? Eh, appunto. Sono però... Ma poco fa hai detto tu ha vinto 3-2. Che hanno fatto i gol della Lazio? Eh, D'Amico. D'Amico, sì. D'Amico Varese 3-2. Esatto. E come si chiamava l'arbitro? Agnolin, di Bassano del Grappa. Scusa, come l'ho detto a tanti altri, tu che sei in mezzo al calcio adesso, dimmi un po', ma una partita del genere, Serie B, Lazio-Varese, scusami, cosa c'entra Agnolin? La dirigenza magari voleva, scansare quella promozione che sarebbe stata un costo all'epoca, preferendo rimanere in Serie B. Ovviamente non sto parlando di voi giocatori, sto parlando dell'avvocato Collantoni, Mario Collantoni. Lasciamo perdere, Filippo, cosa dici? Andiamo avanti? No, no, lasciamo perdere allora. Basta solo questa frase, perché tu hai dato tutto al Varese e vorrei arrivare alla stagione 84-85 hai dato una gamba per il Varese in quell'anno perché hai giocato sempre, pur avendo un ginocchio malandato. All'ultima di campionato a Perugia, tu hai pianto, hai pianto per la retrocessione in C1, mentre alcuni dirigenti se la ridevano. Se la ridevano. Se la ridevano. Ecco, era il giugno dell'85, tu insieme a Braghin, Orlando, Salvadè, Strappa, Scaglia, dopo questa partita, siete stati ceduti in massa alla Triestina e una settimana dopo le porte del Franco-Ossola sono state sdradicate perché la piazza, la città aveva capito già che fine avrebbe fatto il Varese, derubato, devastato, fallito tre anni più tardi, nel febbraio dell'88. Ma scusa, Filippo, ma ti sembra normale te sette giocatori, non per pescatori, perché è un bravissimo ragazzo, è un bravissimo giocatore? Cioè, a pari, hanno cambiato sette giocatori con pescatori. Ti sembra normale? Eh no, che non è normale, insomma. C'era qualcosa sotto, c'era qualcosa sotto, almeno, credo. Quelle lacrime, le lacrime di Perugia per l'ultima partita in B del Varese, che cosa ti aveva ferito di più? Ma anche il modo di fare, cioè, io ho giocato per ben due mesi, mi facevo, il venerdì mi tiravano il liquido dal ginocchio con un siringone. La domenica, mezz'ora prima della partita, mi mettevano una puntura per non sentire male e giocare per due mesi. Così si è sfasciata tutto, cartilagine, tanto che poi, quando sono andato a Trieste, i tre anni che ho fatti, li ho fatti non tanto bene perché avevo dei problemi nell'allenamento, nel giocare, in tutto. Comunque, quello che è successo là, sono cose che le penso io e è meglio che me le tengo per me. Sei un uomo vero e a Trieste anche lì hai sfiorato la promozione in Serie A che è stata persa dalla vostra società solo per il coinvolgimento della Triestina nel secondo scandalo del calcio scommesse. Tu sei un uomo vero che non ha mai venduto nulla, mai una partita, cioè sei sempre stato irreprensibile in campo, come ho detto la settimana scorsa presentando, ti ho detto che hai sempre dato l'anima, hai giocato prima che per te stesso, per i compagni, per l'allenatore e per i tifosi. Allora Filippo, Filippo la vuoi sapere una cosa? Dimmi, dimmi. Io una volta ho parlato con una persona dentro del calcio, non è giusto fare un nuovo, sai cosa mi ha detto? Che io ero un coglione, lo sai perché? Perché io giocavo per il presidente, per i miei compagni, per il direttore sportivo, per i tifosi, sai cosa mi ha detto sto dizio? Che il vero calciatore deve giocare per se stesso, poi se è giusto o no non lo so, ma io non l'ho mai fatto però. e io ti ringrazio, ti ringrazio per tutte le emozioni che ci hai dato quando indossavi quella maglia bellissima, bianco-rossa, e per queste parole, perché sono parole importanti soprattutto in questo calcio, in questo calcio moderno, è importante... E te com'è? In questo calcio moderno sono importanti... com'è questo calcio? A te piace Filippo? Eh no, eh no che non mi piace. Ma non per partito preso, io ho visto sempre le partite in televisione, tu sai cosa faccio adesso appena comincia a girare la palla? Ma addormento. L'abbiamo detto anche con Eugenio Fascetti, il vostro era un calcio aggressivo, un calcio totale, eravate chiamati la piccola Olanda, tre verticalizzazioni, eravate subito in area a fare i gol. Ma la cosa bella di Fascetti era che non ho... Io in quattro anni che sono stato con Fascetti, non mi diceva mai tu devi fare questo, devi fare quello, la tattica... Io entravi in campo, leggevo la partita e dopo cinque minuti era a posto. Aiutavo la difesa, aiutavo il centrocampo, perché se stavo lassù stai tranquillo che di gol ne facevo molti di più. Esatto. Ritorniamo al discorso di prima che hai giocato per i compagni, per la squadra e non per te stesso. Sono parole importanti soprattutto in questo calcio moderno. Ma io non ho mai giocato per me, lo posso dire benissimo. a Trieste ho trovato c'era uno che non ti passava la palla manco morto. Anche se tu eri da solo e lui ne aveva cinque addosso, non te la dava la palla. E qualche battibecco l'ho avuto bene là. Ma anche con campioni, guarda. Beh, ci piace questa tua sincerità. Vincere è la tua casa e spero di riaverti ospite presto in trasmissione. Chiudiamo questa puntata con il tuo saluto ai tifosi del Varese che ti hanno tanto amato. Beh, i tifosi lo sanno. Quelli che mi conoscono, che mi conoscevano, lo sanno. Poi un favore. Io vorrei salutare ho degli amicissimi a Ghirla, la famiglia Cano e la famiglia De Grandi. Sono molto, molto amici miei che sicuramente guarderanno la puntata. E li salutiamo anche noi, li abbracciamo. Grazie per il vostro entusiasmo e grazie soprattutto a Vincenzo Di Giovanni. Grazie mille, Filippo. Un abbraccio anche a te. Un abbraccio forte da tutti noi di vincere. Un abbraccio Vincenzo e un abbraccio anche a voi cari telespettatori. Ci vediamo presto. Arrivederci. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Grazie a tutti